E' polemica tra il Cimo, sindacato dei Medici e presidente della regione Crocetta e merita la nomina dei manager delle astre siciliane. Crocetta vuole nominare nuovi dirigenti nonostante l'impugnativa del Consiglio dei Ministri. E' arrivata la convocazione per l'attivazione della consulta giovanile attesa da anni a Ragusa con l'arrivo della convocazione e iniziata anche la polemica. Sono i giovani democratici che contestano all'amministrazione comunale il mancato rispetto dei tempi. Intervenire tempestivamente per individuare la sordità nei neonati e quanto predisposto negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria. L'intervento protesico logopedico deve avvenire entro il sesto mese di vita per avere ottimi risultati. Forte Libro Festival prende il via il prossimo 25 maggio al centro commerciale La Fortezza. L'evento letterario e artistico vedrà nomi di spicco del mondo della cultura italiana tra cui Camilleri e Taviani. Buonasera telespettatori di MTG, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. In apertura parliamo ancora una volta della polemica nata tra il sindacato dei Medici e il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta perché il presidente vuole nominare i nuovi dirigenti generali ma non sa di cosa parla. Così il sindacato, il Cimo, ha la notizia che il governo procederà con le nomine dei manager comunque nonostante l'impugnativa del Consiglio dei Ministri. Ce ne parla Viviana Sammito. Scontro alla regione per le nomine dei dirigenti sanitari. Il governatore Rosario Crocetta, che aspira al secondo mandato alla presidenza della regione siciliana, non può nominare i nuovi 12 manager delle ASP dell'Isola, il cui mandato scade il 30 giugno. Può con un decreto l'assessore regionale alla sanità Baldo Gucciardi nominare i commissari che arriveranno in carica fino a quando non si formerà il nuovo governo che può procedere alle nuove nomine. Dopo l'impugnativa del Consiglio dei Ministri sulle nomine ritenute illegittime, Crocetta invece ha sentenziato che il governo procederà comunque con le nomine dei manager contravvenendo un emendamento approvato dal Parlamento regionale che vieta la nomina anzitempo dei nuovi direttori generali che il governo vorrebbe esitare per dare il meglio in campagna elettorale. E' insorto il Cimo, il sindacato dei Medici, attraverso il vice segretario Angelo Collodoro. Ora è successo che qualche direttore generale a cui era stato promesso un nuovo contratto per i prossimi tre anni sia andato a piangere presso amici del PD governativo, si legge nella denuncia del Cimo. E così Palazzuchigi ha annunciato ricorso alla Corte Costituzionale avverso alla legge anti nomine elettorali varate dal Parlamento regionale. A nostro avviso la posizione del Presidente Crocetta è un po' fuori e sopra le righe. Il fatto che il governo, quindi Palazzuchigi, possa avere annunciato un ricorso avverso la legge regionale con un ricorso alla Corte Costituzionale non sancisce che la legge sia incostituzionale, bisognerà comunque attendere il parere della Corte Costituzionale. Solo allora si saprà se la legge è o non è incostituzionale, ma fino allora la legge in vigore è e in vigore resterà e non è compito dal governo regionale modificare una legge votata dal Parlamento regionale. Legge che peraltro è stata votata con voto in giù di opposizione e pezzi di maggioranza del PD stesso, cioè la maggioranza che sostiene Crocetta. Certo, la sua dichiarazione suona come un atto più politico che altro. Parliamo adesso di legittima difesa organico e immigrazione su tre temi cruciali che investono la sicurezza e anche altre problematiche. Il capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, è intervenuto a Ragusa per inaugurare la sala multimediale della Questura, non ha mancato di far conoscere la sua opinione. Io ritengo che sulla legittima difesa un ampliamento degli ambiti della legittima difesa, dal mio punto di vista, non è necessario. Ritengo invece molto più urgente che in questo Paese si avvii un serio dibattito, ma soprattutto più che un dibattito, si forniscano concrete risposte sul versante della certezza della pena e sul fatto che chi delinque e chi viene condannato sconti le pene. Non ha dubbi il capo della Polizia, Franco Gabrielli, su come contrastare al meglio il fenomeno della criminalità comune e dei rischi, a volte drammatici e angoscianti, che può correre a casa o nella sua impresa chi venga raggiunto da ladri e rapinatori. Gabrielli, intervenuto nella città capoluogo per inaugurare la sala multimediale della Questura, intitolata al suo predecessore Manganelli, la cui cornice grafica è stata curata dagli studenti del liceo artistico Galileo Ferraris di Ragusa, ha anche affrontato altri temi caldi come immigrazione e organico. Su quest'ultimo tema il numero uno della Polizia parla di distribuzione iniqua del personale. Dovunque vada il tema dell'organico è sempre un tema ricorrente che mediamente in tutte le realtà del Paese siamo molto al di sotto di quello che dovremmo essere, poi magari ci sono qualche rara eccezione che può essere attribuita a qualche interessamento, diciamo così. Sull'immigrazione Gabrielli afferma che non tutti i Paesi operano nello stesso modo. Io credo che l'Europa debba stare vicino all'Italia, sia nelle politiche di aiuto ai Paesi di origine, perché poi uno dei temi fondamentali non è tanto quello di gestire i flussi, è quello in qualche modo di creare le condizioni perché i flussi siano in qualche modo attenuati e laddove i flussi producono l'arrivo nel nostro Paese di decine di migliaia di persone il problema non è soltanto italiano. Contrastare in maniera decisa tutte quelle imprese che sfruttano la mano d'opera in agricoltura il cosiddetto caporalato per cui interviene la legge 199 del 2016 al fine di tutelare oltre ai lavoratori anche le imprese che invece le regole le rispettano. Di queste e di molto altro si è parlato questa mattina durante il convegno il lavoro regolare in agricoltura voluto dalla Cilca. Tutelare le imprese che operano nella legalità al fine di garantire al lavoratore i propri diritti è lo scopo principale della legge sul caporalato nata per contrastare tutti quegli imprenditori agricoli che per anni hanno sfruttato la mano d'opera dell'uomo. Tanti casi di cronaca che nel tempo hanno evidenziato come purtroppo nei campi uomini, donne a volte anche minori siano stati costretti a lavorare per pochi euro l'ora. Bisogna cambiare rotta e per questo la legge 199 del 2016 si rivela fondamentale così come è emerso questa mattina durante il seminario organizzato dalla Cilca. La legge sul caporalato è sicuramente uno strumento importante per affinare quelli che sono gli strumenti di salvaguardia e tutela del lavoro, del settore agricolo, delle cooperative che lavorano nei binari delle regolarità per far sì che ci sia un rilancio di questo settore per tutto il sud Italia nel rispetto dei contratti. L'intento è quello di un canto di punire e severamente chi sfrutta la mano d'opera italiana e comunitaria e extracomunitaria e dall'altra parte invece facilitare le aziende che operano correttamente e che devono essere sostenute, premiate anche attraverso una bonifica del mercato con l'esclusione di coloro i quali invece le regole non solo non le applicano ma le disapplicano in maniera sistematica. Comunicazioni e question time ad inizio di seduta del Consiglio Comunale di ieri sera a Modica, unico intervento quello della consigliera Ivana Castello sulla relazione dell'attività del Sindaco e dell'amministrazione comunale. Assente il Sindaco per impegni istituzionali, per tale motivo i consiglieri di maggioranza hanno abbandonato l'aula. La relazione dell'attività del Sindaco e dell'amministrazione comunale di Modica, unico punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di ieri sera, a causa dell'assenza del Sindaco per impegni istituzionali però la discussione non si è potuta tenere. Il consigliere Cavallino ritorna sui danni del nubifragio dello scorso gennaio e chiede la convocazione di un Consiglio Comunale che faccia chiarezza, denunciando anche l'atteggiamento di un deputato regionale che indaga, dice Cavallino, attraverso i cittadini per fare chiarezza su dei lavori senza alcuna autorizzazione. Secondo l'assessore Lorefice tutto è stato fatto in modo trasparente, semmai aggiunge sono stati i deputati regionali che al momento opportuno non si sono fatti vedere. Il Presidente del Consiglio, Garaffa, propone l'inserimento dell'argomento per il prossimo 22 maggio. La parola passa poi alla consigliera Ivana Castello che ha presentato un'interrogazione urgente sul consuntivo 2014-2015 in merito al consumo di energia elettrica. Nel 2014, ha detto, il costo dell'energia Enel ed Eni ammonta a 4 milioni di euro, mentre nel bilancio la cifra è di 1 milione 800 mila euro. Questa differenza ha creato un debito fuori bilancio. Sembra nel 2014, ha detto ancora la Castello, l'avanzo di amministrazione è un fittizio pari a 4 milioni e 500 mila euro, ed invece sarebbe stato di 2 milioni e 600 mila euro. In questo modo si è raggiunto il patto di stabilità, che diversamente non era stato rispettato. Una storia che, secondo la consigliera del PD, si ripete anche nel 2015. Quindi l'avanzo fittizio ha creato debiti fuori bilancio, consentendo solo di raggiungere il patto di stabilità. La Castello dunque chiede che l'interrogazione venga inviata alla Corte dei Conti e alla Procura della Corte dei Conti. L'assessore Lorefice replica, sostenendo che l'Enel e l'Eni vogliono i soldi e che le fatture sono aggravate di un 40% in più per il ritardo del pagamento. Il presidente Garaffa poi introduce la discussione sulla relazione sull'attività del sindaco e dell'amministrazione. I consiglieri presenti sono tutti d'accordo che la discussione senza la presenza del sindaco non si può ottenere e dunque la Castello interviene denunciando il fatto che non si vuole riaprire il dibattito sulla relazione del sindaco, dichiarazioni che hanno spinto la maggioranza a lasciare l'aura per rispetto al primo cittadino. La Castello continua con il suo intervento elencando una serie di transazioni che non sono state rispettate ed eventi come ciocomodica 2013 che non ha una copertura finanziaria e l'estate 2015 che non è ancora stata pagata. La Corte dei Conti aggiunge che non conosce la situazione debitoria del comune e cita diverse richieste che il sindaco ha inoltrato al tesoriere di un istituto di credito per avere spalmati fondi vincolati. Questo indica, continua la Castello, che il comune versa in una situazione finanziaria critica. Per la consigliera del PD il sindaco deve spiegare ai cittadini perché dopo 4 anni non è riuscito a migliorare le condizioni finanziarie dell'ente. L'attivazione della consulta giovanile era attesa da anni. Adesso che è arrivata la convocazione è subito polemica. I giovani democratici contestano all'amministrazione comunale di Ragusa il mancato rispetto dei tempi previsti dal regolamento. La convocazione della prima riunione della consulta giovanile arriva un giorno prima senza aver rispettato i tempi previsti dal regolamento per convocare la seduta. A denunciarlo i giovani democratici di Ragusa che da anni si battono per l'attivazione dell'organismo, considerato un importante strumento di partecipazione politica per i più giovani. Dopo anni in cui ci siamo spesi in prima persona insieme ai consiglieri comunali Mario D'Asta e Mario Chiavola e al PD tutto per la sua attivazione, evidenziano in una nota, solo a dicembre scorso l'amministrazione ha dato i primi segnali pubblicando il bando per l'iscrizione. Ma abbiamo dovuto attendere ancora altri cinque mesi affinché venisse convocata la prima riunione. Adesso che è arrivata l'inizio per i democratici non è proprio esaltante. Peccato, aggiungono infatti, che sia avvenuta senza il rispetto del regolamento previsto dalla consulta stessa. Infatti la comunicazione è arrivata l'8 maggio per l'indomani, quando viene invece esplicitamente indicato che la notifica dell'incontro debba pervenire almeno dieci giorni prima. Ovviamente questa disattenzione, continua la nota, rende difficile se non è impossibile una partecipazione attenta per i membri dell'organismo, i quali, essendo giovani, devono sottostare anche ad impegni di natura universitaria fuori città. Questa nuova esperienza è cominciata male, concludono, ma ci auguriamo che possa essere gestita con più premura in rispetto dell'importante compito di coinvolgimento dei ragazzi nella vita amministrativa della città capoluogo. Il sindaco di Ragusa Federico Piccito, accompagnato dal progettista architetto Loredana Tumine del RUP dell'intervento del geometra Rosario in Gallinera, ha effettuato questa mattina un sopralluogo nell'area del cantiere di piazza Cappuccini, in cui sono in corso i lavori di riqualificazione del sito. L'impresa giudicataria dell'intervento sta eseguendo regolarmente, secondo cronoprogramma, i lavori previsti nel progetto, che si prefigge di mantenere inalterata la forma esterna della piazza con una pavimentazione e il disegno delle aiuole. Per la pavimentazione saranno utilizzati materiali locali e pietre autoctone e verranno realizzati spazi a verde con l'inserimento di nuovi elementi d'arredo urbano. Screening uditivo per i neonati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria. L'ASP 7 di Ragusa in prima linea per consentire l'individuazione della sordità nei neonati in modo da intervenire tempestivamente. L'intervento protesico-locopedico, infatti, entro il sesto mese di vita, dà ottimi risultati per quanto riguarda la terapia riabilitativa. In Italia colpisce circa due neonati su mille, percentuale che aumenta di circa 20 volte nei bambini ricoverati in terapia intensiva neonatale e che in Sicilia è superiore alla media nazionale. Ogni anno sono circa 140 i casi di sordità, di cui 50% in soggetti sani, ossia senza fattori di rischio. Spesso si arriva in ritardo dopo i due anni di età. La conseguenza è una scarsa efficacia della terapia riabilitativa. La tempestività in questo caso è determinante. In questa direzione si muove l'ASP 7 di Ragusa che ha previsto per i neonati lo screening uditivo che consente di individuare e distinguere la normalità dalla non-normalità e deve rispondere ai requisiti di semplicità, affidabilità, validità e innocuità. Un programma di screening organizzato e funzionante è in grado di effettuare una diagnosi precoce entro il terzo o quarto mese di vita. Il successivo intervento protesico logopedico, entro il sesto mese, consente di far recuperare al bambino con deficit uditivo neonatale competenze in merito a comunicazione, conoscenza, dimensione sociale ed emotiva compatibile con quella dei coetanei sani. Gli alunni delle quinte A e B dell'Istituto Comprensivo Carlo Amore di Frigintini hanno visitato i nostri studi televisivi del Centro Operativo di Modica, una visita che rientra nell'ambito del progetto sul giornalismo portato avanti a scuola. Le realtà televisive e radiofoniche viste dal vivo dagli alunni della quinta A e quinta B dell'Istituto Comprensivo Carlo Amore di Frigintini nell'ambito di una visita nei nostri studi del Centro Operativo di Modica. La loro presenza rientra nell'ambito di un progetto sul giornalismo portato a termine in classe e il cui culmine prevedeva proprio una visita presso gli studi televisivi. I piccoli studenti, dunque, dopo aver studiato come si redige un giornale, hanno approfondito la loro conoscenza, toccando da vicino la realtà giornalistica, in modo tale da capire come si lavora in una redazione e come si prepara un telegiornale. Affascinati dal contesto televisivo e soprattutto dalle immagini che avevano visto solo da casa, sono rimasti entusiasti e incuriositi da un mondo per loro sconosciuto e che in tutti questi anni avevano visto solo dall'altra parte del piccolo schermo. Accompagnati dalle maestre Giovanna Amato, Stella Curiali e Antonella Macauda, al termine della visita hanno esposto le loro impressioni. Dietro a una trasmissione che a noi piace vedere c'è tanta fatica di persone che lavorano anche per le nostre domande che ci facciamo. Che cosa avete studiato a scuola in particolare? La forma di un giornale, come è fatto il giornale e che c'è dietro. Cosa ti è piaciuto di più? Tutto quello che voi fate per noi, quello che guardiamo. Il ricordo che mi sto portando è bellissimo perché è una cosa strana, perché noi pensiamo che ci vuole a fare una cosa del genere, invece dietro c'è tantissimo lavoro. Cosa ti piacerebbe fare da grande? La giornalista? Sarebbe bello. Cosa ti piace di questo lavoro? Perché la giornalista? Ma perché informerei le persone, saprei tantissime cose, sarei sempre tutti i giorni informata su quello che accade nel mondo. Dietro questo lavoro, diciamo che è molto faticoso, va comunque l'organizzazione, tutti gli orari che cambiano, dopo il telegiornale per esempio, comunque c'è molto lavoro e dopo questo lavoro c'è una bella, poi in televisione c'è una bella vista, vediamo cose molto belle, riescono bene. Mi è piaciuta soprattutto la parte tecnica e la parte dove voi spiegate, cioè la parte dove voi si montate, sistemate gli orari dove fate, state attenti ad ogni minimo dettaglio e secondo me è un lavoro che voi fate benissimo. E ti piacerebbe fare questo lavoro da grande? Mi piacerebbe molto, a dire la verità. Mi è piaciuta e mi è piaciuta pure l'organizzazione che è usata per la televisione. La mia esperienza è che ho capito dopo tutti questi uffici di studio che per vedere tutte queste cose in televisione c'è tanto lavoro dietro a tante persone. Ma cos'è che ti è piaciuto di più? Quale settore? Questo angui si registra perché c'è un giornalista che parla tutte le informazioni che ha ricevuto. Staviani, Camilleri e tanti altri al centro di un evento che si pone come festival, punto di riferimento della cultura, si chiama Forte Libro Festival ed è un evento che prenderà il via nel centro commerciale la Fortezza di Modica e che lo porrà come cuore pulsante di cultura alla fine di questo mese. Che la Fortezza fosse un punto di riferimento per il commercio modicano era cosa nota, ma che la Fortezza diventasse di fatto uno dei cuori pulsanti della cultura modicana è una novità che negli ultimi mesi sta prendendo sempre più piede nella realtà locale. presentata oggi in conferenza stampa Forte Libro Festival, un evento culturale promosso dal centro commerciale La Fortezza di Modica e che prenderà vita dal 25 al 28 di maggio con ospiti, interviste e contributi di ampio spessore. Quattro giorni ricchi di eventi destinati soprattutto ai giovani, punto focale il 150esimo anniversario dalla nascita di Luigi Pirandello, sicuramente tra i più amati e conosciuti autori della nostra isola. Saranno proiettati nove film con la firma dei più grandi registi italiani e stranieri che si sono ispirati alle opere pirandelliane destinate agli studenti delle medie inferiori, superiori e al pubblico degli appassionati. La serata finale dell'evento sarà poi dedicata interamente all'opera pirandelliana con la testimonianza in video di Andrea Camilleri sul Nobel Agrigentino. La presentazione a cura di Sara Zappulla, Muscarà ed Enzo Zappulla con i Pirandello, la famiglia e l'epoca per immagini Milano, la nave di Teseo, Carlo Cartier e Massimo Leggio, leggeranno lettere da Luigi e Stefano Pirandello nel tempo della lontananza 1919-1936 a cura di Sara Zappulla Muscarà. Infine, un piacevole ritorno al passato, la proiezione del film Chaos 1984 dei fratelli Vittorio ed Emilio Taviani, girato in buona parte nel territorio della nostra provincia e molte scene ammodica. I dettagli dell'evento, che coniugherà perfettamente musica, arte, letteratura e gastronomia, sono stati al centro di un confronto con i giornalisti di questa mattina presso i locali della direzione. Ci rivolgiamo a un consumatore, a un utilizzatore estremamente trasversale, nel senso la cultura è per tutti e in un mondo ovviamente dove si parla di consumismo esasperato, sicuramente ritornare alla cultura è un elemento importante che fa parte dell'esperienza e dell'esperienza di un territorio. L'amore per la cultura prima di tutto come strumento di condivisione, ad esporre il programma e cosa c'è dietro l'evento, che vede la partecipazione di tutte le librerie della città di Modica, la direzione artistica guidata dal giornalista Marco Sammito e Piera Ficili. Non vogliamo dare più l'immagine di una Sicilia arremissiva, piagnona, pessimistica, che serve solo a vendere fiction di livello infimo e che danno un'immagine sicuramente sbagliata di quest'isola, che ha saputo intrecciare in modo mirabile le grandi tradizioni, i grandi sapere e le culture dei popoli conquistatori. Noi l'abbiamo fatto attraverso un programma che si muove su quattro assi ben precise, sono letteratura, cinema, teatro, musica ed enogastronomia, perché anche il cibo è una forma sublime di cultura. Sarà presentato l'ultimo libro di Sara Muscarà sui perandelle straordinario e infine una chicca. C'è un film che ci riporta indietro del tempo perché ci racconta i nostri luoghi degli anni Ottanta. È un film del 1984, Caos, dei fratelli taviani, che fu gerato in buona parte da Modica. Saranno presenti ben 18 case editrici siciliane, quelle più grosse e nonne, da Flaccovio ad Armando Siciliano, l'edizione lussografica, fino alle case editrici locali. Al Via Cambio Vita, la Fiera del Sano Vivere, organizzata dall'Expo e in programma da oggi fino a domenica, ad Etna Fiere a Catania, voluto fortemente da Barbara Mirabella. Questo evento è giunto al secondo anno, attira numerosi partner commerciali, ma soprattutto cittadini che decidono di intraprendere uno stile di vita corretto. Io cambio vita, e tu? Questo è il motto che Barbara Mirabella, General Manager di Expo, chiede ai tanti visitatori che stamattina hanno preso d'assalto la fiera Cambio Vita, da oggi fino a domenica presso Etna Fiere di Etna Polis. A organizzare questa fiera è proprio la Expo di Barbara Mirabella. Stamattina il taglio del nastro alla presenza di molti esponenti al mondo della politica è imprenditoriale. Credo che il cambio vita dei trafiere sia per i siciliani e per tutti gli appassionati del vivere sano è il contenitore più buono che c'è. Una tre giorni stupenda, dedicata ai grandi macro settori del buon vivere, dei corretti stili di vita, dall'alimentazione bio all'alimentazione per le intolleranze, al turismo green quest'anno molto presente con lo spazio dedicato ai cammini, al turismo sostenibile e ancora l'acquacoltura biologica, il pescato, parleremo di pesce, noi siamo siciliani e non potevamo non farlo. Il visitatore uscendo via da qui potrà dare come il nostro loco un po' una sterzata alla propria vita ed essere perlomeno più curioso e un po' più colto e dire perché no adesso quando vado al banco della spesa sarò più attento all'etichetta. Al fianco degli organizzatori Marco Columbro, il noto attore e presentatore che da anni è uno dei portavoce del biologico del nostro paese, nonché produttore di prodotti naturali e sostenitore di una dieta sana. Cambiare vita vuol dire adottare uno stile di vita completamente diverso da quello che avevamo prima, cioè adottare uno stile di vita più sano per noi e per la natura che ci circonda, quindi mangiare biologico vuol dire non solo salvaguardare la nostra salute ma salvaguardare il nostro ambiente. Cambio vita è la fiera dunque che ci permette davvero di cambiare stile di vita, dal turismo a quello che portiamo in tavola passando alle quotidianità, tutto può farci davvero cambiare vita. L'anno internazionale del turismo sostenibile e iniziative come queste servono sempre a promuovere una Sicilia che è diversa, non è quella scontata tra virgolette della regione al mondo con più siti UNESCO ma c'è anche una Sicilia che guarda un modo diverso di fare turismo. Vincita milionaria a bel passo, siamo nel Catanese, una donna si è giudicata 5 milioni di euro con un gratta e vinci, il punto vendita fortunato è quello di Rosario Chiechio in pochi minuti appunto vicino al comune del paese e dall'inizio dell'anno gratta e vinci ha distribuito in Sicilia vincite per oltre 161 milioni di euro. Convocato e presieduto dal dirigente scolastico Rinaldo Stracquadagno si è riunita a modi che il consiglio direttivo della sede dell'Università delle tre età della città della Contea all'ordine del giorno l'attività dei futuri impegni dell'associazione è definita e organizzata la partecipazione del coro della sede di Modica al nono festival regionale itinerante dei cori dell'Uni 3 della Sicilia in programma domenica prossima a Canicattì in provincia di Agrigento. Non ci sono aggiornamenti, concludiamo qui questa edizione di MTG, grazie come sempre per averci scelto, vi auguro una buona serata, arrivederci a domani. Grazie a tutti per aver guardato il nostro canale, grazie a tutti per aver guardato il nostro